Buongiorno da Telpress Italia. Primo piano nota stampa di giovedì 5 maggio. Difesa comune, ora o mai più. La sfida di Guerini e Gentiloni riportata sulla stampa. Il nuovo corso obbliga a ripensare tutto, spiega bene Mattarella invocando una sovranità europea, un'autonomia strategica nel campo tecnologico e della difesa, per un paese che ha la vocazione della pace. Anche questo è un tassello cruciale di un problema che ormai investe le massime autorità istituzionali europee. Per il ministro va costruita una base tecnologica e industriale europea. Il presidente Mattarella invoca una nuova autonomia strategica e il generale Graziano ricorda che non si può restare indietro rispetto alla Cina. Anche sulla Repubblica si parla di difesa comune, proposta PD, non rafforzi singoli paesi. Il tema della costruzione della difesa comune europea, non tecnico-militare ma fortemente e squisitamente politico. Se ci concentriamo sulla fase finale del processo, cioè sulla forza di reazione rapida, prendiamo il tema dal lato sbagliato. Così ha detto il ministro della difesa Lorenzo Guerini, uno degli intervenuti alla Gorà, organizzata da Roberta Pinotti del PD. Difesa comune europea, quali prospettive? Non possiamo innamorarci di idee romantiche, ha premesso il ministro. La questione non è quella di un esercito europeo, ma di scelte coraggiose e ambiziose, che passano attraverso la condivisione delle analisi della minaccia, la costruzione di una base tecnologica industriale comune, la costruzione di capacità militari, la volontà di impiegare tali capacità. Giorgio Battisti, generale degli Alpini e veterano dell'Afghanistan, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, intervistato dal mattino, parla della guerra in Ucraina. Si combatte con estrema lentezza. Il 9 maggio, data chiave, solo allora si capiranno le vere intenzioni di Putin. Se Mosca intende andare oltre il Donbass, tutto si complica, conclude. E sul messaggero, focus sulla difesa e i sei ostacoli che impediscono all'Italia di svettare. Nonostante le eccellenze Leonardo e Fincantieri, pregiudizi e burocrazie ministeriali frenano lo sviluppo di un settore invidiato da molti paesi, si legge nel focus. L'Italia dispone di un'industria della difesa molto competitiva, in grado di raccogliere le nuove sfide che pone la necessità di sicurezza e di avere un ruolo importante sui mercati internazionali, dice. Ottimista sul futuro di questa manifattura tricolore Guido Crosetto, già parlamentare e sottosegretario alla difesa dal 2014, presidente dell'Aiad. Ma si continua a scontare la penuria di finanziamenti. Si arriva al paradosso che alcune banche non sostengono attività autorizzate da diversi dicasteri e del tutto legali. I 161 anni dell'esercito, orgoglio della nazione, sul QN il mattino, sono iniziate ieri mattina a Roma con la deposizione di una corona dall'oro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 161esimo anniversario della Costituzione dell'esercito italiano, tra gli altri presenti il ministro della difesa Guerini, il capo di Stato maggiore della difesa, l'ammiraio Giuseppe Cavo, Dragone. E sarebbe già ben definito il progetto della gigantesca base militare da 73 ettari di estensione e da 445.189 metri cubi che il governo vuol costruire a Coltano nel parco di San Rossore, una base peraltro già approvata con un DPCM del 14 gennaio e ammessa le procedure semplificate previste per le opere di difesa nazionale, così come si legge in gazzetta ufficiale e riporta il manifesto. Ciò si evince dalle parole del sindaco pisano Michele Conti al termine dell'incontro tra il ministero della difesa, regione toscana, comune, provincia di Pisa, ente parco e arma dei carabinieri. È stato infatti presentato agli enti locali l'insediamento che il governo vuole costruire nel parco regionale. Lo stesso tema trova spazio anche in vari quotidiani come la Repubblica Firenze, Nazione e Nazione Pisa ed altri. Il faro Copasir sulle ospitate della RAI segnala la Repubblica. Nella seduta di ieri il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha deciso di svolgere un approfondimento sulla ingerenza straniera e sulla attività di disinformazione anche al fine di preservare la libertà e l'autonomia editoriale e informativa da qualsiasi forma di condizionamento con particolare riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente del Copasir, Radolfo Urso, ha annunciato le audizioni del direttore dell'Aisi, Mario Parente, dell'amministratore delegato Rai Fuertes e del presidente Agicom, Giacomo Lasorella. Infine, tutti con il naso all'insù, riporta il resto del Carlino Rimini. Oggi arrivano i parà, oggi appunto il via ufficiale è della Dunata con l'apertura dello stadio Romeo Neri. Imponente la presenza istituzionale, annunciati i tre ministri Lorenzo Guerini, Roberto Cingolani e Federico Dinca. Per i temi esteri, Zelensky a Draghi, aiutatemi a fare un controvertice il 9 maggio, scrive il Corriere. Il leader ucraino chiede un sostegno mediatico e ha proposto ai leader dei paesi alleati un vertice in videoconferenza il 9 maggio, nel giorno in cui Putin si prepara ad usare la parata della vittoria. Il presidente del Consiglio si è detto d'accordo con il summit. E ancora sul Corriere, ieri il primo ministro giapponese, Kishida, ha avuto un incontro bilaterale con Draghi a Palazzo Chigi. I due sono concordi nella condanna dell'invasione russa dell'Ucraina. Mariupol si combatte dentro l'acciaieria che resiste alle bombe dei russi, resa impossibile, scrivono la Repubblica e tutti. Non ci arrendiamo, gli uomini di Azov catturati prima del 2022 sono stati tutti torturati a morte. La nuova Europa basta veti e difesa comune. Prima mossa di Bruxelles per cambiare i tratti UE, scrive il messaggero. Iniziato l'iter verso la convocazione di una nuova convenzione, la strada del federalismo pragmatico indicata da Draghi martedì scorso. Ville, yacht, orologi e depositi bancari, il tesoro del patriarca. Ora, Kirill, che nega l'invasione dell'Ucraina, attacca anche il Papa, scrivono il Corriere, la Repubblica e la stampa. Da un sospetto passato nel KGB alla guida della Chiesa Ortodossa di Russia, la Commissione Europea punta ai suoi conti europei, anche in Italia. E poi la visita del Papa. Il Cremlino frena e la Chiesa russa va all'attacco, scrivono il Corriere ed altre testate. Il patriarcato di Mosca, Francesco, ha travisato le parole di Kirill. I portavoce di Putin e non ci sono accordi per un incontro. Il pontefice ha sbagliato i toni. Grano rubato e incubo carestia. I russi adottano la strategia della fame, scrive la Repubblica. Si vuole impedire al Paese di sopravvivere, ma questa guerra distruggerà anche chi dipende dall'Ucraina. E il generale di Mosca davanti al bivio, l'incubo della guerra di logoramento, riporta ancora la Repubblica. C'è l'incognita su cosa Putin rivendicherà in occasione delle celebrazioni del 9 maggio. Il tentativo di Putin adesso è completare le vittorie militari del 2014, allargando il controllo all'intero Donbass. Mosca tutta rossa per la parata, scrive il Corriere. Prove in cielo, barra addobbati con bandiere e poster. Sembra di essere tornati al tempo dell'URSS. Il presidente Lukashenko ordina esercitazioni militari per testare se il suo esercito è pronto, scrivono il Corriere ed altri. Se la Bielorussia entrerà in guerra, l'Ucraina è pronta, il messaggio del portavoce della polizia di frontiera Demchenko. E per l'economia, superbonus, salgono tempi e costi, scrivono il Corriere, la stampa ed altri. Le banche bloccano l'accessione del credito e ora la proroga decisa dall'esecutivo rischia di essere inutile. Tempi delle pratiche raddoppiati, costi di cessione del credito che possono arrivare al 15-20% dell'importo. Banche che ormai non accettano più la cessione o frappongono mille ostacoli. Superbonus, la giungla dei prezzi, riporta la stampa. Edilizia ripartita, ma il caro Cantieri, denunciato da Draghi, costa allo Stato più di 30 miliardi. Lancia l'attacco, basta incertezze. E intanto il decreto aiuti torna oggi in CDM. Precettori di reddito di cittadinanza esclusi dal bonus 200 euro. Fisco, la riforma slitta ancora. Ultima trattativa sul Catasto per evitare la fiducia. Riportano la Repubblica ed altre testate. Accordo rottura, si consuma in queste ore l'ultimo tentativo di mediazione con il centro-destra sulla riforma del Catasto. Eboeri e Perotti sulla Repubblica spiegano perché serve il salario minimo. Ci sono quasi mille contratti nazionali che si sovrappongono tra di loro stabilendo minimi salariali diversi per lo stesso insieme di lavoratori. Scrivono, per un nuovo impatto sociale ci vogliono strumenti nuovi. Porre ordine nel sistema di relazioni industriali significa anche rilanciare la contrattazione a livello aziendale. Riporta il Corriere ancora che segnala che l'e-commerce guadagna 3 milioni e mezzo di nuovi clienti in due anni. In Italia crescita del 33% nel 2021, fatturato sopra 64 miliardi. Lo scontrino medio più alto nell'arredamento. E Italia oggi evidenzia che per il bilancio 2021 si va verso la proroga. Il governo sta infatti pensando di spostare il termine di approvazione al 30 giugno a causa di difficoltà interpretative e dello stato di emergenza finito solo il 31 marzo. Sanzioni sul petrolio. C'è il no dell'Ungheria. A prezzi più cari del 5%, l'Europa si divide sul sesto round di divieti. I dubbi della Slovacchia. Sofia e Praga chiedono più tempo. Kiev, i paesi contrari, complici dei crimini russi. La scure sull'istituto Sbirbank. Riporta nel Corriere il Messaggero ed altri. Il costo dell'embargo, scrive la stampa. La rinuncia dell'Europa alle forniture di oro nero russo penalerizzerà Germania e Polonia. Importazioni per 285 milioni di dollari al giorno. I timori per il pericolo di scossoni ai prezzi. E Fabio Panetta della BCE, intervistato dalla stampa, parla di scudo europeo contro la crisi. Se sosteniamo l'Ucraina, riduciamo anche l'inflazione. Gli acquisti di titoli continua. Termineranno nel terzo trimestre. E la lunga fase dei tassi negativi potrebbe chiudersi. Ma prima aspettiamo i dati sul PIL. Infine, per la politica, Conte, l'attacco al Premier. C'è chi vuole il Movimento 5 Stelle fuori da questo governo. Scrivono il Corriere ed altri quotidiani. Il leader, un ricatto sull'inceneritore. No alla fiducia. Rappresaglia sulla misura del 110%. Il PD, dobbiamo chiarirci. Letta, preferisco parlare più delle cose che ci uniscono. Conte e il centrodestra sono il doppio fronte di Draghi. Ma nessuno vuole le urne, scrive il messaggero. Sulla delega fiscale, intanto, Lega e Forza Italia frenano ancora. Il Premier non crede al voto in autunno. Con la guerra, una crisi non è percorribile. A destra, la disfida delle convention. Salvini sceglie la roccaforte di Fratelli d'Italia, sottolinea la Repubblica. Nella coalizione, competizione sulle conferenze programmatiche. Dopo il raduno di Meloni a Milano, la Lega organizza la Kermess di partito a Roma il 14 maggio. Forza Italia invece a Napoli con Bertolaso. I fantasmi della crisi, titola la stampa parlando del governo e sottolineando lo scontro tra Draghi e Conte. Nel governo non c'è accordo e la delega fiscale slitta ancora. Barricate di Lega e Forza Italia sul catastro, la riforma rischia di saltare. Prima il Quirinale, poi la guerra. In tre mesi è crisi delle coalizioni, scrive il giornale. Ma sulle armi Draghi tira dritto. Il decreto pronto a giorni. L'ipotesi è che dopo gli USA, l'ex BCE vada in Parlamento per un'informativa già prevista per legge. E per quanto riguarda le amministrative nelle città, il PD punta sulle donne. Vogliamo un partito femminista. Alle elezioni di giugno, i DEM presentano nove candidate sindaco nei 26 capoluoghi al voto. Letta intanto ci riprova sul DDL ZAN, sei mesi dopo lo stop. E sul fine vita è scontro, scrive il Corriere. Omotransfobia torna in Senato lo stesso testo bocciato. Virus, le regole di primavera, riporta la stampa. Proteggere naso e bocca, tenere il distanziamento. Le norme antivirus per i prossimi mesi. Ancora precauzioni nel settore turistico. Tra un mese è attesa una nuova verifica. Rimane l'obbligo nelle mascherine al lavoro nel privato. Accordo con i sindacati. Restrizioni fino a giugno anche all'aperto. Ma nel settore pubblico è solo raccomandata. Per libero è farsa mascherine. Obbligo per i lavoratori del settore privato, ma non per gli statali. Spunta al nuovo protocollo tra sindacati, aziende e ministeri. Fino al 30 giugno è necessario indossare dispositivi, pure all'aperto. Nella pubblica amministrazione invece solo raccomandate. Bassetti, protezioni ormai inutili. L'effetto sarà negativo. Il virologo aggiunge il sistema è andato in tilt. La politica prende decisioni ignorando gli esperti. È tutto per questo appuntamento. Una buona giornata da Telpress Italia.